ecco qua ci troviamo in mezzo al bosco al bosco del mio paese top secret siamo alla ricerca dei galletti questo è il periodo dei galletti e del pizzicarello adesso andiamo a vedere non è che poi sia così facile mettiamo a fuoco la distanza e andiamo a vedere voi guardate così non so se qualcuno riesce a vederlo ma adesso io mi avvicinerò e vi faccio vedere che poi non è così semplice andare a trovare il funghetto questo è un tipo di fungo che sta sempre nascosto vediamo poi se riusciamo a vederlo eccolo qua mettiamo a fuoco meglio ecco qua adesso io vado a scoprirlo piano piano e per farvelo vedere se sta piccato questo funghetto questo è il galletto adesso andiamo a prendere ecco qua ve lo faccio vedere da vicino lamellare sotto ecco qua questo è il galletto